e poi il portiere Striano conclusione subito il gol via i migli neanche il tempo di partire e subito passa il vantaggio in Real 1-0 Quintiliano Quintiliano prova a cercare e trova il gol del pareggio grandissimo gol di Raffael Quintiliano 1-1 operatore che ha girato un po' tutta la Puglia calcettistica da Martina a Monopoli conclusione e gol doppietta per Gabriele Alves tutto troppo semplice per lui si va sul 2-1 per il Real adesso si capirà se la scelta di Manfredo di andare fuori sarà anche determinante per questa gara eccolo qui Gaston Gueno eccolo qui aspettava il pubblico molfettese per andare in gol e sigla il gol del 3-1 a farlo nei migliori dei modi c'è stato spazio anche per Ceci Giancola mette dentro si fa subito vedere ed è il gol che vale il 4-1 anche se l'arbitro forse vediamo lo annulla lo annulla forse secondo l'arbitro ha toccato con una mano Eccolo qui di Benedetto destro tutto troppo semplice per il giocatore buon tentativo ed eccolo qui il gol di Giancola che scarica tutta la sua rabbia su calcio d'angolo stavolta non c'è regola che tenga arriva il gol del 4-1 il tocco per Quintiliano Quintiliano che va con il destro autorete 4-2 di Benedetto mette una gamba sulla deviazione eccolo qui Aimi ed è la tripletta per lui tripletta per Aimi adesso sigla il 5-2 il gol di Bueno e quello di Giancola un gol annullato proprio all'indirizzo di Luigi Giancola e termina qui questa quindicesima giornata con Vitale e compagni che esultano e ringraziano anche i tifosi che sono ritornati a popolare la tribuna del Palapoli di Molfetta Real che conquista i tre punti e consolida la seconda piazza